Ed eccoci qua, siamo a Root66 e affronteremo questo game su Overwatch 2 Mi raccomando ragazzi, se apprezzate i video del genere ricordatevi di lasciare un bel like Ed iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video e andarvi a recuperare quelli precedenti Con appunto, dicevamo, il mio tank preferito Sì, proprio lei, proprio lei Con la skin regina di Punk La regina dei Junker Eccoci qua, dobbiamo difendere in questo primo round Dobbiamo difendere il carico, non dobbiamo farlo avanzare Tenteremo di riuscirci, insomma Faremo tutto ciò che è il nostro potere per non permetterlo Per non permetterlo la scuola avversaria Ci riusciremo? Non ci riusciremo? Questo ovviamente adesso non possiamo saperlo Ma veramente raga farò il possibile per San Cine Un grandissimo ritorno sul canale di Overwatch Insomma, dopo aver, insomma, trattato Overwatch all'inizio della season 8 Con, ovviamente, una reaction al battle pass Con gameplay su Mauga Nuovo tank E ritorniamo qui attivi Sul gioco della Blizzard Insomma, bellissimo Lo sparatutto a squadre che preferisco di più In questo dato momento storico Allora Che abbiamo contro? Dobbiamo scoprire innanzitutto che abbiamo contro Cioè, soldato 76 No, chi era? Quale è Baptist in realtà? Abbiamo Baptist contro L'ho scambiato per soldato, incredibile Poi abbiamo Widowmaker Ash Leftweaver E un certo Sigma Eccolo qua Eccolo qui Non dobbiamo focussare il tank avversario in realtà E anche se Gli altri sono ancora coperti, per così dire Se mi... Miller per darmi una mano Grazie Eh, ma c'è solo lui da focussare Questo è un problema Sì, lo so chi mi countera Lo so che Sigma countera la regina dei Junker Però avevo proprio voglia di giocare con la regina dei Junker Poi insomma Vedremo di intervenire qualora la situazione non dovesse andare In migliore dei modi Eeeh O costiamo Baptist Questo è un po' da Ok Un po' di mortalità di Baptist, ragazzi E no, così si ricarica Guarda come... Ah, c'è Life Weaver Perché se l'è portato dietro Dietro Bene, bene, bene Mamma mia Comunque Adrenalinico Allenissima potenza Sempre ovvia Ovvia, ovvia, ovvia Ho il nostro Overwatch 2 Guarda come vuole prendermi alle spalle Sigma Let's go Vattene... Stavo dicendo vattene il lobby Vattene lo spawn Vattene lo spawn Uh, questo campo di mortalità però La Life Weaver col suo fiore Vattene lo spawn Ma nasce Eh... Via, 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 via Qui su qui la sinistra che ha ultato pure la... Il loro Life Weaver Ok, mettiamoci... Salvo No, Lucio Non mi ha più curato Lucio Come mai non mi ha più curato Ero lì, ero lì Eh, ma mi ha focussato il loro Life Weaver Mi ha focussato veramente, veramente tanto Mancano due minuti Io vorrei farla finire il prima possibile sta partita Vorrei farla finire il prima possibile, ragazzi Vorrei portarla proprio a casa Però loro stanno facendo avanzare in una maniera allucinante Il carico, velocissimo E poi c'è Widowmaker e Eliash Che si sono qualizzati i loro TPS E... Ma mi serve un po' di cure Un po' di cure Molto bene, molto bene Abbiamo anche l'ultimate da poter utilizzare Ma vorrei un attimino Per un po' di nemici qua Tiro Ha messo Ramacca, ha messo Ramacca Tanto avversario Non c'è un problema, questo è un problema C'è la barriera di batti Adesso, adesso Un minuto giusto Questo no Timing sbagliatissimo Ok Timing sbagliato lì, eh Comunque loro sono arrivati all'obiettivo Buona focussata questa Stiamoci qua Via Ramatra Peccato Abbiamo perso Pronta all'ingaggio Buona, buona Devo andare dentro Ok Devo andare dentro In realtà S'ho salito sopra Va bene Qui ho sbagliato Eh, ho sbagliato Però mi ha ripreso Mi ha ripreso in tempo Mi ha ripreso in tempo La nostra mercy Bravissima Non è la prima volta Che ci riprende in tempo Qui c'è lo spawn Ok Buono Questa sarà buonissima St'eliminazione Molto molto bene Eccolo Vi posso Chiappare Possino Curatemi Ok La nostra ha fatto un giro Mi sta focussando E mi è focussato un pochino male La nostra Mi sta tanto che mi è focussato un pochino male Campo di mortalità Di buff Io personalmente Non lo sopporto Proprio Non lo sopporto Proprio Gli stiamo tenendo lì nel loro spawn Regà Gli stiamo tenendo lì nel loro spawn Non resteranno lì dentro Per molto secondo me Devono cercare un'altra tattica Cosa che adesso hanno fatto Hanno messo Moira Life Weaver Che ha fatto Life Weaver? Azzil Via 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 Ok Non è scappata Moira Let's go Abbiamo anche l'ultimate di nuovo Da poter utilizzare Però il carico D'ho sa Ma chi l'ha fatto avanzare così tanto il carico? No regà Qua ho perso il focus L'ho fatto diventare un deathmatch a squadra In pratica Ho perso il focus Ma il carico Fammi mettere sul carico Visto che sono il tank Dai No ho perso proprio Regà Scusate ho perso proprio il focus Cioè il carico Stava avanzando Inmisurabilmente Io stavo lì cercando Di tenerli Ma probabilmente Poi gli altri Non hanno fatto Quel che dovevano Ogni modo hanno portato il carico Quasi al secondo checkpoint Sì Sono arrivati proprio a metà Sono arrivati proprio a metà E dobbiamo un attimino Cercare di riportarlo indietro Però vedi che sta succedendo ora Che molti stanno quittando Su un avversario ha quittato un guaritore Ok Era matta proprio Delle scelte Prende delle scelte Sbagliatissime Peggiori delle mie insomma Peggiori delle mie Quelle scelte lì Ai 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 Oh 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 Dov'è? 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 Uh Ha cambiato di nuovo tank Per la terza volta Per la seconda volta Anzi Ha messo prima sigma Poi era matta E adesso Wraking ball Avro i Da gabgiorno nossa In piastre O? No, no, mi fu cussa così Ora del giudizio Eh, ma io più di tanto Merci, merci, merci Ragazzi, dove siete tutti? Mi hanno lasciato da solo contro il team Mi hanno lasciato da solo contro il team Dove sono finiti tutti? Cosa potevo fare? La partita mi sa tanto che continuerà Eh, è lì Cassidy mi ha spatolato, raga Giustamente, cioè Rimasto completamente, ero rimasto completamente da solo lì Nessuno si è fiancato a me per curarmi, niente E qui Si continua Altri due minuti, raga Gli avversari stanno pian pianino riprendendo una partita Sulla carta abbastanza Semplice, almeno così Erano le premesse, insomma Sembrava semplice sta partita In realtà si sta rivelando più complicata del previsto Eh, ma guarda, guarda Non so che Meno male No, non so Oh Dai, let's go Curatemi Merzi Meno mia, qui era un one shot Ma Merzi, perché non mi stava curando? Ho vinto il fight veramente all'ultimo, raga All'ultimo respiro Guarda quella Merzi Buono Guarda un break in ball No, no Dobbiamo Spatolare un break in ball Attenzione a che si Buono No, c'è Sumba Eh, sono sempre da solo Buono, buono Ai, curatemi Curatemi Eh, lo so Eh, lo so Completamente da solo Sempre, sempre da solo Alla fine i nostri healer stanno curacchiando un pochino Insomma Un pochino Però veramente io stavo facendo il possibile per non lasciarci le pene Eh, qui il match si sta facendo sempre più avvincente Eh, non so, non so come fare Se non mi curate non posso attaccare Se non mi curate non posso attaccare Curatemi Curatemi Forza Forza Guardate Che partita stiamo per perdere Guarda Guarda lì Guarda il carico dov'è Non riesco a prendere un reiki Fermete Let's go Ancora gli altri Guarda qui Guarda, guarda quella merci Che voleva fare Bravo la nostra fara Let's go Sì Così che si vince su Overwatch 2 Con la regina di Junker Non potevamo fare meglio ragazzi Sinceramente Secondo me 27 6-3 Con 9.000 Quasi 10.000 di danni La migliore azione della partita Però se la prende il soldato Il soldato Sì La nostra squadra Che adesso è rientra da fare Ha cambiato Ha switchato pure Per lui Non so Dai 27-6-3 Non male Non male Come ritorno Con la regina di Junker Let's go Sì Eccosì Let's go Sì 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 Grazie a tutti.